salve ragazze allora questo sarà un video di chermas update e passiamo subito a vedere le cose che ho fatto allora ho fatto la texture per il waffle poi ho fatto questo ringo senza stampo poi ho fatto questo tigro e poi un attimo solo anche questo Winnie the Pooh e questa Bimpy poi ho fatto Pac-Man e ho fatto anche questi questo e questo ho fatto quattro fantasmini di Pac-Man poi ho realizzato questo cupcake che dove esce dalla lingua scusate un muffin dove esce dalla lingua all'interno c'è questi piccoli pallini che ci sono la decorazione all'interno poi ho fatto questo pacchetto regalo tre dimensioni poi ho realizzato questo cuffetto così semplice dopo che vi do che fare il tutorial di questo poi questo dubbio poi ho realizzato questi due muffin con la cremina sopra poi quest'altro questo coin cupcake con il brillantino poi ho realizzato questo yogurt e quest'altro che mi è venuto meglio poi ho fatto queste girelline così però non sono venute molto bene infatti le dovrò rifare poi ho fatto queste girelline poi ho fatto queste girelline così verdi che sono molto soddisfatta di come sono venute stessa cosa vale per queste qua azzurre che sono venute cioè a me piacciono un sacco non so voi però a me piacciono veramente molto poi ho realizzato questo girellino kawaii poi ho realizzato questa faccia di oddio il mio nome vabbè però per halloween ce n'è anche un'altra però in questo momento ho realizzato ecco qua poi ho realizzato queste due zucchette e poi questa che mi piace un sacco questo fantasmini in tre dimensioni di cui credo fare il tutorial con la vaccina kawaii e infine un'ultima cosa che ci ho messo veramente moltissimo tempo sono questi allora come vedi che sono un bel lavorante non so se si vede no non si vede si illuminano al buio vabbè e niente questi qua erano i miei ultimi charme e ci vediamo nel prossimo video ciao